NON CI CREDO NON CI CREDO NON CI CREDO NON CI CREDO Come state mi chiedo spero come sempre alla grandissima Ragazzi sono tornato con un altro video di Call of Duty Black Ops 3 Perché l'ultima volta mi sono divertito talmente tanto Che non potevo non giocare ancora e ancora e ancora Oggi andremo a provare a fare la nucleare in live Qui con voi amichitos Che sarà difficile ci avevo già provato una volta tempo fa Ma oggi ci riprovo con questa nuova modalità Quindi basta parlare e blatterare e andiamo in partita Ok amichitos la partita è iniziata Devo dire che è la prima volta che faccio questa mappa Criogen Immagino si pronunci così Old DLC ma veramente mi capitano poche volte le mappe nuove Ed oggi sono qui col mio KN silenziato Che l'altra volta mi ha dato tante soddisfazioni E cerchiamo di non morire Uh mamma mia Madonna 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 Uh 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 Fatemi depositare ancora e poi scapo perché qua è troppo pericoloso No si è spostata ragazzi Porca salvatemi la vita Non mi salvate mai Non importa noi abbiamo fiducia nei nostri mezzi Occhio che non ti nascano lì in fondo Bravissimo Porca miseria gli ho detto Occhio che non ti nascano lì in fondo E sono nati lì in fondo Eh 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 Stai attento con quelle ma... Ma che schifo che mi fai Ma che schifo Non posso morire così da uno Che va in giro col lanciarazzi 90 punti all'hater Quello sta arrivando da destra Perfetto Ah ah ti aspettavo Pum pum Hater ragazzi Hater non ringraziate Fate il vostro dovere e clonatemi questo hater Riciclate Infatti bravi Wow 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 Quanti sono Quanti diavoli sono Dio mio ragazzi Dio mio ragazzi Cosa sto combinando qua Dio 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 Fatemi andare dentro 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 Uovi Vi prego vi prego non morite Non morite uovi Porca miseria Mi sa che ce n'è uno dietro Oh Come so scappato da quello Di qua non c'è nessuno Sto qua Perché tanto verrete fuori A piazzare Oddio Mi hanno salvato la vita Yes 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 Senza pietà Me la sto rischiando tantissimo Tantissimo a stare qua Però chi non rischia Eccolo lì Hater Ti prego E lì in fondo Mio 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 Sì 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 Adesso li butto il nucleo ragazzi Non vi preoccupate Che li tiro giù tutto Buttato lì Perfetto Non voglio sapere quanto sono Non voglio sapere quanto so Moton è caduto Non ci No Come ho fatto morire Nella maniera Più stupida Non lo so Potevo morire In mille modi Ma così Ma così no Ma così mi sono preso in giro Da solo Veramente Cioè così Mi sono Come ho fatto a morire così E ci siamo E ci siamo ragazzi Vamos Anche questa volta Per la vittoria E mi sono messo di nuovo Il KN Visto che l'ultima volta Mi ha dato una grande mano Spero che anche questa volta Sia così Per fare la Nucleare in live Puro parkour No E vabbè Queste cose Non le capisco Comunque ci abbiamo depositato Solo 3 E loro 17 Questa Ve la dice Lunga No Però la mia squadra Deve fare di più Cioè non Non possiamo Fare queste cose Non possiamo Via 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 Cioè 5 35 Ma che compagnò Veramente Che compagnò Sì 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 Adesso abbiamo L'AV Però c'è il Contrattacco Che rompe Mancano 100 punti E chiamo Il Contrattacco Così li rompo Un po' Anch'io Li rompo Un po' Anch'io Uabì Perfetto Cioè siamo già 5 e 51 Veramente io non capisco La squadra che mi hanno dato Come è squilibrata Questa cosa Ho 22 colpi Andato dentro Meno male Meno male Meno male Che è andato dentro Oh Volei fregarmi Contrattacco per voi Devo fare io Molto per la squadra Devo fare io Molto per la squadra Quanta roba aveva quella Prendo 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 Dio ragazzi Mi sono gonfiato di punti Hater Hater Dai ragazzi Ribaltiamo questa situazione Ale L'ho beccato Almeno quello Senza pietà C'ho tre colpi C'ho tre colpi C'ho tre colpi Uav Ragazzi 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 Sono qua chiuso Ma devo resistere Devo resistere Per il bene di tutti No navi raps Cosa Nemica Mica Cos'è Dimmi che Ok Mica Mica Madonna Sto facendo un macello Lì Né uno qua dietro Ragazzi aiuto 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 Dio mio ragazzi Né uno qua dietro E' uno qua Tu sei No no rimani lì Tu rimani Non ci credo 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 Io non ci voglio credere Io non ci voglio credere Io non ci voglio credere Non Non ci credo non ci voglio credere veramente non ci voglio credere 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 iscriviti lo lo